Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa di lavori si registrano code in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna. In 11 invece a causa del traffico intenso code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo alla FIPI lì dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicce e la Strassigna in entrambe le direzioni e code in uscita alla Strassigna in direzione Livorno. Sempre in FIPI Lima a causa di un incidente si segnalano code in uscita a Cascina provenendo da entrambe le direzioni. Cantieri di Firenze stanotte per sollevamento pesi in orario 22.6 rimarrà chiusa via Caburre nel tratto da via Venezia a via Micheli. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!